Non si chianta Magali, si chianta Magali, Magali ti chianta, Magali. Perché le puoi sapere? Che fare? Perché sempre sugera che io morì, che io non ci studia e lui è i buscati! Stai Miikele, che hanno fatto manare problemi... Allora, guarda! Allora! Allora ho vinto! Ecco! Allora… non lo so 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 che magari possa fuori non lo so non lo so Grazie a tutti. Il mio numero lo deve nominare, va bene? Se non raccomando, se non ti spaccano il lignato. Vedi? Il bastone c'è qua, c'è qui. Ah? Che c'è io? Che pare che cristiano, mi ci dici? Ah? Che c'è io? Che sono imbalata, che io moria? Non si merda. Ah? Non si fa meccicciuli, ah? Ci ha fatto cos'è andato a fare una volta. Ma guarda direzze io, e ora c'è un'altra volta. Che c'è imbalita? Ah? Non rispondire. C'è tanto rispondire questa scuola? Eh? Non ti permette di giù, ah? Ah, prima la c'è rispondita. Va bene? No, a te. No, a te a te. Ma la dici mi ha detto che non ci mancia in merda, tutti i muriti, va l'alto, vai. Va l'alto. Vai. E tutti i muriti, le sbracciate in merda. E la parte che ci metti a terra, a terra dei pantaloni, che cosa machenci a terra? Ah? Che calci? Ah? A casa stai morti che c'è la parte ai mali? Per sé che era c'era il ché? Ti accompagnavi a un ospedale, sai? Oggi mi dico, non ti vai imballando la mantella quando moro tu, ma io moro. Io non moro, ma farò una fedusa. Sto avesse a vergognare per vedere il calico. Se nero, bussi in buriglia, che cazzo che mi devi fare? Eh? Basta che vado a prendere il calcio. Stai lontano, che è meglio. Grazie.